Siamo a casa buona e qua siamo arrivati ai dolci, giusto? Bruna cosa stai preparando? Un dessert al topinambur con caramello salato e purè di topinambur, una quilla alla mandorla, spuma alla mandorla e gelato al topinambur. Fatto con il topinambur, cotto, con latte di cottura del topinambur. Un'esaltazione del topinambur. Un dessert sul topinambur. Siamo a casa buona, a trucco, quindi se volete assaggiarlo dovete venire per forza qui e chiedere di Bruna, giusto? Perfetto.